Non ci sono indicazioni che si tratti di terrorismo, questa è la conclusione della polizia del Leicestershire dopo l'esplosione avvenuta in un mini market di un edificio a due piani nel centro di Leicester. L'incendio è avvenuto alle 19 ore al locale di domenica, l'esercizio commerciale è andato distrutto, sei in tutto i feriti che sembra si trovassero all'interno della struttura. Al momento del rogo due di questi sono ricoverati in condizioni gravi. Se mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, ancora sconosciute le ragioni dietro l'esplosione, la polizia del Leicestershire ha aperto un fascicolo sull'incidente. I testimoni sentiti dai media britannici hanno parlato di un buato e di un tremore prima che le fiamme si innalzassero.